Oggi siamo qui per ricordarti, è bello comunque vedere la vita che va avanti, per cui questo ricordo non è legato al fatto di voler a tutti i costi tenerti in mente per non volerti lasciare andare dove è giusto che sei, ma proprio per vivere con pienezza la bellezza della semplicità, la semplicità di un ragazzo come te che ha vissuto in modo normale, che ha voluto vivere la sua vita di servizio verso gli altri, di lavoro, di gioco, di divertimento come tutti quanti e proprio in queste cose qui non è così scontato gli ultimi giorni che comunque hai passato, che li hai affidati totalmente a Maria, li hai affidati totalmente a quello in cui credevi e hai affidato la tua famiglia e i tuoi amici comunque a quella roccia che ci deve far rimanere sempre salvi, per cui mi piace ricordarti così.